senti prendo vaiva perché non voglio essere troppo inutile early game rispetto ad ice che gankerà tanto quindi non sai che non mi piace mi piace sempre bravo bravo un vino mi piace a me non dispiace mi piace contro vai mi piace contro l'ice penso sia ok e poi in realtà io posso seguire il linguaggio di via e che mi sembrano che hanno due scopi diversi cioè tu vai in io tengo out di solito e fare fare però posso anche stare sul tuo stesso target abbiamo io ho auto reset quindi ti procco facilmente la passiva lì non è male spacchiamoli no lo devo vedere ancora ma che cazzo cosa stiamo aspettando ti prego non chiccare anche me adesso solo perché non ho visto ai non c'è bisogno è un coglione vorranno silas natulus ne abbiamo broma broma è rotto ma comunque mi hanno visto mi devi dire che sai che mi manca livello 1 in corea tutti invadevano la fai ti uno fighting bello bello quanto era divertente cazzo è vero bello vedere a livello 1 loro c'erano sta cosa non è che c'è il cazzo più grosso è altre che mamma mia se uno moriva a livello 1 era finito il game in top lane siamo in altri fiori ma questi hanno cos'hanno tf tf top andiamo a vincere quando sei qua che ti ha lanciato tantino addosso più o meno si esatto e uno diceva ma sei qua non abita a bergamo ma tu hai giocato con questa diana poco fa no? si è cagato tra l'altra volta mi ha inventato e l'ho flammato famos ormai sono a reforma che non fa molto oh impegniamoci però dove è il loro genre? e non abbiamo info su dove ha startato ma penso giochi per in realtà non so perché secondo me gioca per top e ammazza cerca di ammazzare quel tizio abbiamo tutte le lane facilmente gankabili tranne bot dove siete più non facilmente gankabili ma siete veramente forti mi hanno capito? ho visto si ma devo coprire dal dive e palle poi mi invadono aggraviamo non c'è quella prima ma non c'è quella prima ma non c'è quella prima così male azz forse ora si può giocare che c'è prima di anna ora c'è la wavelength peccato peccato vabbè diana si è fatta pregare comunque ha fasciato silas che altro ora bot va per caso sotto sumner minchia la wave nostra l'ha messa da merda eh non bello si e l'ice è qua io penso che recollerò tanto bot non posso venire ora vai vai mi stanno ingaggiando e l'ice c'è l'ice c'è anch'io eh lo forse vince non so quanto tempo prendete guarda ma la vediamo nooo che cosa cosi mia poteva essere veramente il gran drama poteva essere sarà natural smid al 600 per cento elise top del tizionato leggermente l'ha preso il nice trade per la wave elise dovrebbe essere tipo ai lupi e non ho mid prio adesso e o si fa voi prova a farmi a voi d'angasci che grido sapevo no peccato perché l'avamo quasi uccisa vabbè penso che ne ho preso uno almeno è in the bad ma non drammatico ma lo sapevo onestamente non dovevo farlo c'era il rischio che fosse lì e ci ho pure pensato sono stato super gridi qua tra un po vengo bot che c'è il 6 cerchiamo di prendere a bot ora invece io tanko male e presto ancora qua occhio che sa la strana r botta non ti vedono sono giocati 3 che abbiamo la parità eh prendiamo prendiamo potendo andare a bot 6 di sonno questo lo vuoi mid che è bad e qua anzi non posso c'è anche un'altro dietro oh wow forse potevo vincere la miss play atlas ma già me la potevo uccidere eliza è topside nel river bozzino ma ora mi ammazziamo eeeh vabbè però ha già dato jays qua palla un po' un luckissima vabbè ok con te li sono riusciti su eliza l'avamo non sciocchiamo non è un problema onestamente Asha ancora, ma c'è la Revision di Anank Eh, well played, bravi bot Bravi, bravi, bravi Facci, dammi, facci Mercur Non so che faccio Mercur Mercury è straforte, sto game Asha, R, Sylas, TF, Elias, ogni giga broken C'è anche gente, TF No, ma è pericoloso Sì, Sylas, scary comunque early Però c'è anche Jhin Eh, R, Sylas è dietro, però Il problema è che i volte di... Vabbè, io walk Io, io, io non puoi mai la vita È un HP Brava, ma Jhin va che stava presso Vinc, 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 vinc Sarà, sarà, sarà Vabbè, stai, era da vincere, ragazzi, sto fight Nice, shut down Oh, ha gridato la ulti Ma perché ti avvicini? Uno al drago Perché? Abbiamo preso pure il shut down Prendiamo la placca top Gigante, meno male Stavamo proseguendo l'outcome di questi ultimi due fight L'inversario dovrebbero giocare a Void Anche se, cioè, sono... Ulti di Ashe e di tutti i fili Sylas Degne di una giocata tale Sono nella mia zona o lo so nei Void Ci sono bocci, bastardo Io non ci sono per un po' Mi nego le placche Vorrei fare Drago, vorrei fare Drago mi piace tanto Guarda, guarda Se ci sono messi con la roba Sei pensibile Puoi scesare, scesa, scesa, poco Ce l'hai? Vabbè, Bromo è morto Non mi dire altro Oh, guarda Guarda, guarda Guarda, sta rollando Eh, ma è tu il giro di squash Io ti guardo Senti, vai a fare il drake Vorrei vedere ciò anche il jungle Vai a fare il drake Puoi chiedere, per favore? Per favore Aiuta, aiuta il signor Peccato Speravo di prendere anche di più Vabbè, nice, nice, nice Guarda che chi mi ingaggia a domini Cioè, gente dietro Non abbiamo TF, Jace, lontano Ma se mi ingaggiano io non muoio mai Ma potrebbero fare 5-man Possiamo magari, solo lì Vole con una testata Questo è da fai, stai andando a fai dare Bravi, eh? Guarda con il game Sì, è bene No, però Eh, no, non mi perdono No, 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 però no Non potevo Volevo, ma non potevo Eravamo uno in meno Cioè, avevi tankato un bot Era un peccato Ma era giusto morissi Sì, che va bene Cringino però, ok Questo è Small Ma quando gruppiamo Se me li distruggiamo Dove è il drago? Vedo un po' di MR Non è male Tutto molto bene Credente la mia R sarà sul tank Sì, che va bene Dove Noi 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 Mi sede T'è una venena Noi Non Mi sede No Hai lo shield? No, ma è come il golpe Ho fatto un miliardo di danni, no? Ma il tu c'è anche il ZenStream E... tiene compagnia? Tiene la mani, no? Ma dici che... Ma io vorrei prendere... ...Restiver Drake Ok Oh, è giusto! Il TTF è up? Sì, è un problema Vabbè Braga, braga, braga Oh! 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 Ma è una partita di livello altissimo! Si, si, sono vari di player Siamo anche a soul point Era critico Sì, lo era Vabbè, comunque i gruppatiti liberamente li distruggiamo Cioè, c'è danno a prendere sui lives Solo occhi al pick che hanno tanto burst Comunque passiamo, eh, possiamo Io ho la, anche la pianta Prendi le piante Per me possiamo addirittura forzare Baron Cioè, ovviamente ci giuriamo Guarda, guys! Guarda, guarda Ma siamo... Ma siamo... Si, ne siamo... Oh, nice Ma no, ma... C'era... eravamo splittati Ma sono essi... No, ma... Super sensi, fai Che caso No, questo è vero Sono d'accordo Però se ti eravamo proprio splittati male Non ero accorto Va bene, va bene Drago 2 minuti Baron è gone Basta che siamo uniti Ci facciamo a piccare come voglio Che cosa dovremmo fare? Cioè, ulti TF di Drago Ovviamente Vabbè, 1 per 1 va bene Vabbè, 1 per 1 va bene Il Drago è in 30 Il Drago è andato Vabbè, va bene così C'è l'ice che mi buca Fa male, fa male Dovremmo fare più qui qua Io prendo il back E anche Diana L'item Arrivare di Ashe e Navy Viamo a preparare a tempo Eh, che è anche in contesto In contesto, eh Un po' di più, infatti Non vengono C'è DP di Diana Navy Guarda di Jenna Capiamo Guarda di Jenna Capiamo Dai, 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 dai Cazzo E l'ice ha flashato TF ha costato Se noi siamo più forti Noi in fight ma di schiena secondo male Però divertente dai Vediamo, vediamo 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 Blue Trink Ma perché stanno cesando quelli Che animali, bro Che animali What? Cosa si prende? Non credo Ma Baron non ce la fanno Se me ce la fanno a fare Baron Se me ce la fanno a fare Baron Se me ce la fanno a fare Baron in duo No, per se troppo No, secondo me Scuditiano lo tankano Lo tankano Ma gli evi nib Questo è sbagliato You need to read for this Back No, no, no Ormai lo prendono Ormai lo prendono L'invitore è scomodo Il problema è ulti di Ashe TF ultimate Che cazzo dici porco due TF ultimate è un problema For sure Comunque hanno griffato Perché sto fight era più vinto Di quello che è stato Ma va bene dai All good, all good Ho visto summoner importanti Ho visto barrier di Ashe Loro potrebbero andare Baron E chi va a fare Stanno givattando rate Sti cazzo Sti cazzi Anzi, diamogli fastidio Se tanto givattono Eh, infatti questo lo dovrebbe fare Gini in solo tipo Andiamo da lì E chi va No, no, io no Io non vento al giro solo Però aspetta, andiamo Forse, forse facciamo il tempo A contestare Quanta vita Guarda Salas Sfruttato Nice Go, go, go Gli altri sono qua dietro Ma non dipende Oh, dammi, dammi, dammi Mi hanno saltato con Ashe Sono fine, eh, sono fine Divertente, sì Divertente Se non vogliono andare alla jungle bot Teniamoli Buona Diana Perché ce l'ha la quinta Forse l'icebuckle Ficun Forse non mi bebi Forse vediamo Salas app in 5 40 Ah, andiamo bot Andiamo Magari prendo io con la wave Così per ottenere la pressure Però potrebbe riparare di Ashe Vabbè Ma abbiamo soldi Prendi a spendere Giochiamo a partire top Play slow Jace bot Set up Waves Top To play for L'ultimo campo Item Prendo item BRB Ma servì link redaction? Non ce l'abbiamo link redaction Abbiamo poco No, ma c'è pensato È solo Salas Immagino che andrà riferando Prendi red per il vino Dai, si giochiamo tra Best 5 Ma Jace Ma c'è TF Vabbè va bene Onestamente va bene Tanto l'Aaron è il Baron Più della T2 non si fa Poi si gioiava penso a Baron Se si gioiava in base Penso Baron è complicato Se difendono qua si fanno male Dovamo mettere il Pro Dovamo essere progressivi Sì sì Giocherei per l'Elder Tu che partirei Vado a prendere l'Isir Qua dell'Aaron e C'è una truffa che l'Elder Ce lo possono scammare Se i quattro anni l'abbiamo preso noi Chiamo noi che abbiamo L'abbiamo sbloccato Che ci ha fatto il boss finale Ma se nemmeno dovremmo Cioè Io sono confident Che i fight sono nostri Se non pagapiamo hard Eh sì Oh what? Com'è com'è com'è? Farla? W di Jin Eh Questa non c'è Ma hai sputato il tizio Prima c'è Dijon dello spattolo Sono al 18 Nice lo tieni su cosa vero? Ma lo swappo Lo posso swappare Eh ma R di Jin per me qua è grossa Eh Fingagliela Fingagliela Eh eh Io l'ho fingato ma Però hanno la praga Devemmo fare st roba Eh per forza Non busciamo la mid Ah Sparciamo la prima Sì Siamo Un poche Vedere E tra l'altro la quadra di Jin È proprio Sì È sul render Guarda Bello Bello Finalmente Sarebbe incredibile Il secondo gioco Bello 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 Bello